Paio Gregorio, il guardiano del repertorio. Nella vita ognuno lo sa, l'importante è ben guardato. Ma la tecnica prendiamo. Pure questa, se vogliamo, è una cosa vecchia assai. Perché l'uomo, tu lo sai, stante che egli è intelligente, ricercò tecnicamente, fin dai tempi delle ortiche, di scansare la piche. Ad esempio, il precursore fu senz'altro quel signore che è stancato sia un di presso, di tirare appresso. Penso bene, cosa nota, di inventare un di la ruota, in maniera che per cui a tirare fosse lui. Mentre Cheope, il faraone, per la nota sua passione di passare all'aldilà con le sue comodità, stante i mezzi che impiegò, senza dubbio ti inventò con un gran lungi miraggio, la catena di montaggio. Oggi i tempi so cambiati, e con mille ritrovati, mo' la tecnica si vede preso a tanto e tale piede che tra poco a me mi sa potrà darsi che accadrà, che rientrando qualche sera, vedrai lì la cameriera che durante la giornata finalmente fu trovata dalla dolce tua metà. Ma se vai a ben guardà, scoprirai che quella oibò è soltanto un bel robot. Quindi, amici, sia lampante, ben guardare è l'importante. E perciò ecco per cosa, anzi, mo' lo dico in prosa. Scala d'oro, rodi a toce. Ecco cosa guardare, perché il marchio Scala d'oro controlla tre volte la vostra eleganza. Controllo sul tessuto, vi dà la certezza che sia proprio terita, leggero, anticaldo, insensibile alle pieghe. Controllo sulla confezione, solo capi di linea perfetta meritano il marchio Scala d'oro. Controllo sulle finiture, perché ogni dettaglio sia impeccabile. Scala d'oro, rodi a toce. Per un'eleganza tre volte controllata, ecco cosa guardare. Il marchio Scala d'oro, rodi a toce.